ehm vorrei cominciare ehm sono Luisa Cifarelli dell'Accademia delle Scienze e ho il piacere di iniziare questo pomeriggio questo appuntamento con il forum Laura Bassi e eh per illustrare questa iniziativa il perché e da quando esiste questa iniziativa vorrei dare la parola alla professoressa Sandra Linguerri dell'Università di Bologna prego grazie allora buonasera a tutti eh tanto diamo il benvenuto per l'appunto si sente? Si sente? Diamo il benvenuto alla realatrice la professoressa Patrizia Caraveo ringraziandola ringraziandola di aver accettato per l'appunto l'invito dell'Accademia e vorrei aprire appunto i lavori di questa eh di questa giornata con un ricordo delle origini e delle passate edizioni del forum Laura Bassi che è stato voluto dalla professoressa Raffaella Simili e da lei coordinato dal duemila e undici a ad oggi il è stata proprio una singolare coincidenza quella del duemila e undici perché quell'anno sono caduti ben due anniversari il terzo centenario della fondazione dell'Istituto delle Scienze di Bologna e la nascita della di Laura Bassi prima donna a salire su una cattedra universitaria qui a Bologna e anche socia appunto dell'Accademia delle Scienze nel millesettecentotrentadue in quell'occasione Raffaella Simili allo scopo di di ricordare questa straordinaria figura di scienziata e di intellettuale ha promosso presso l'Accademia l'Accademia appunto il forum Laura Bassi un ciclo di eh lezioni magistrali eh con cadenza annuale dedicato di volta in volta a diversi temi eh temi disciplinari la prima edizione del forum riguardò la la storia e la salute delle donne fu aperto da Elena Cattaneo che parlò delle malattie del del cervello e delle celluli staminali seguita a distanza di alcuni giorni dalle lezioni magistrali di Carlo Framigni sulle questioni appunto tra medicine e questioni femminili Dino Amadori sulle problematiche oncologiche delle donne affette da carcinoma nella mammella Aldo Pinchera sulle disfunzioni tiroidee nella nelle pazienti naturalmente non poteva mancare un eh ricordo appunto di Laura Bassi che in quell'occasione fu affidato alla storica della scienza Paula Findlen nel duemila e dodici fu presentato il libro Laura Bassi emblema e primato nella scienza del settecento eh promosso dalla società italiana di fisica e dalla società italiana di storia della scienza che all'epoca era erano guidate erano presiedute da da due donne eh che sono state anche le curatrici appunto di questo di questo volume Luisa Cifarelli e e Raffaella Simili eh negli anni seguenti Raffaella ha continuato a coordinare il forum concentrandosi prevalentemente su questioni di politica e organizzazione della ricerca nel passato e nel presente nella convinzione che un'indagine di tipo istituzionale fosse essenziale per valutare le opportunità e le barriere che coloro che si occupano di scienze di e di ricerca incontrano nel loro cammino appunto verso il mondo accademico un'attenzione particolare al cammino delle donne in ambito istituzionale è stato poi al centro della dell'intervento di Petra Ludolf del forum appunto del duemila del duemila e ventuno del resto la stessa Laura Bassi è stata perfettamente consapevole di quelle che erano le dinamiche accademiche come hanno dimostrato per l'appunto il i passi misurati ma anche coraggiosi eh che eh questa nostra antenata illustre ha saputo appunto compiere nei rapporti con il potere con le istituzioni della sua della sua epoca e quindi con un piacere anche con un profondo senso di gratitudine che oggi siamo qui per continuare il forum Laura Bassi nel segno appunto di Raffaella Simili grazie ecco grazie alla professoressa Linguerri e vorrei anche ringraziare il professor Tega eh presidente uscente dell'Accademia per aver voluto che eh quest'anno eh continuassimo il forum Laura Bassi e lo facciamo con una relatrice d'eccezione la professoressa Patrizia Caraveo ho una pagina piena per presentarvela quindi ehm cominciamo con il fatto che eh si si tratta di illustre fisica milanese dirigente di ricerca dell'istituto nazionale di astrofisica l'INAF è stata direttore dell'istituto di astrofisica spaziale e fisica cosmica di Milano dell'INAF ha collaborato a tante missioni spaziali internazionali dedicate all'astrofisica delle alte energie è stata o è attualmente coinvolta in varie missioni la missione europea integral la missione della NASA Swift la missione italiana agile la missione NASA Fermi e rappresenta l'INAF l'istituto nazionale di astrofisica nella collaborazione internazionale CTA quella del Cherenkov Telescope Array che ha anche una sede importante qui a Bologna il suo eh campo di ricerca principalmente è il comportamento eh delle stelle di neutroni è stata tra le prime a capire il ruolo fondamentale delle stelle di neutroni nell'astrofisica delle alte energie fondamentale il suo contributo all'identificazione della sorgente Geminga che è stata riconosciuta come la prima pulsar senza emissione radio di cui ci parlerà oggi grazie alla messa a punto di una speciale strategia per l'identificazione delle sorgenti gamma galattiche per i suoi alti contributi scientifici la professoressa Caraveo ha ricevuto nel duemilanove il premio nazionale presidente della repubblica ha insieme alle sue collaborazioni d'esperimento il premio Bruno Rossi dell'american Astronomical Society ehm nel duemila quattordici la Women in Aerospace Europe le ha conferito l'Outstanding Achievement Award nel duemila ventuno la società italiana di fisica le ha conferito il premio Ricco Fermi è commendatore dell'ordine al merito della Repubblica e vorrei anche sottolineare che oltre a far parte del gruppo duemila e tre per la ricerca scientifica fa parte del progetto cento donne contro gli stereotipi infine potete leggere i suoi scritti su varie testate in particolare sul sole ventiquattro ore perché dedica molto del suo tempo alla diffusione della cultura scientifica bene oggi è qui per parlarci nel contesto del forum Laura Bassi della sua vita con una stella di neutroni prego metto qui sperando che eh mi sentiate bene mh e ops va bene ok eh allora ovviamente siete ehm eh perfettamente ehm diciamo autorizzati a non sapere che cosa è una stella di neutrone perché eh non è che eh faccia parte dell'immaginario collettivo. Vi dico subito che eh l'idea di ehm chiamare di intitolare questa chiacchierata vivere con una stella eh l'ho eh proprio copiata pari pari da un programma della NASA eh che si intitola Living with a Star eh che è dedicato allo studio del sole eh quindi è chiaro che quando si parla di sole eh le idee sono un pochino più chiare invece io eh giocando un po' con le parole ho eh detto eh che volevo parlare eh della mia vita con una stella di neutroni. Eh le stelle di neutroni hanno un legame forte con il genere femminile eh non solo perché si chiamano stelle sostantivo femminile ma perché eh la scoperta è stata fatta da una eh giovane dottoranda all'Università di Cambridge eh qui è vicino a un storico eh telesco radio telescopio lei eh era dottoranda in un gruppo che eh si occupava di radioastronomia e eh avrebbe dovuto studiare come i segnali degli eh delle galassie quindi degli oggetti eh lontani venivano disturbati dal plasma che eh quindi eh dalle eh dalle particelle che sono contenute nel eh nello spazio interplanetario quindi il disturbo che eh l'emissione radio delle delle galassie ha quando attraversa quando arriva al sistema solare prima di arrivare ai nostri eh telescopi. Il eh questo disturbo è chiaramente casuale perché eh eh un fascio radio incontra una nuvoletta di particelle un altro fascio radio ne incontra un'altra quello che invece eh lei trovò fu eh in questo eh plot che è eh molto simile a un elettrocardiogramma eh eh trovò un segnale eh che si ripeteva quindi non era affatto un segnale casuale eh non veniva dalla direzione di una galassia e si ripeteva con una eh tempistica molto rigorosa con una eh diciamo eh periodicità dell'ordine eh di mh un secondo. Eh vedete che la data ventotto novembre millenovecentosessantasette questo qui era quello che usciva dal radiotelescopio che eh registrava in 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 questo plot il segnale che veniva rivelato. Eh si sono chiesti cosa fosse lei e faccia stava facendo il dottorato ehm e ehm ha portato questo ehm questo foglio al questo rotolo in verità al suo eh professore Anthony Uish eh dicendogli ma eh io ho visto questa cosa qui tu cosa ne dici? E eh lui le rispose a ragazza mia sarà un'interferenza eh un qualche motore una qualche macchina che è passata ma eh le diceva beh prova a rifare la misura il telescopio che loro usavano era un telescopio fisso quindi non si poteva muovere è il cielo che si muove sopra il telescopio quindi alla alla stessa ora si dovrebbe presentare lo stesso segnale e chiaramente se invece fosse stata una macchina o un camion che passava di lì eh questa cosa non si sarebbe ehm vista e invece il segnale si ripresentò e allora cercarono di fare dei delle registrazioni più rapide per cercare di capire un po' meglio eh che cosa fosse eh e eh a quel punto parte la diciamo ricerca ricerca di capire che cos'è ehm un segnale così breve in astronomia vuol dire che la sorgente che l'ha prodotto è piccola perché eh la lunghezza di un segnale la brevità del segnale eh si traduce immediatamente attraverso la velocità della luce nelle dimensioni dell'oggetto che l'ha ehm prodotto e eh e quindi facendo i conti veniva fuori che mh proprio l'oggetto più normale che si poteva immaginare era una nana bianca eh le nane bianche sono eh delle ehm sono lo stadio finale sono dei cadaveri di stelle ehm grosso modo eh tipo il nostro sole stelle eh medie piccole finiscono la loro esistenza come nane bianche in verità poi eh si guardano altre regioni del cielo sì 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 Scusate. Sono un po' rumorosi, ma il primo che avete sentito è il pulsar nella costellazione delle vele e diciamo pulsa dell'ordine di dieci volte al secondo. Quell'altro, questo qui invece, è il resto di supernova nella costellazione del granchio, cioè nella costellazione del toro. Il resto di supernova si chiama Crab Nebula perché i primi che l'hanno osservato avevano deciso che avevano visto delle chele. Io non le ho mai viste, ma questo è un problema mio. E quello che voi vedete qui e avete sentito è la sonificazione del segnale radio che viene emesso da questo oggetto che ruota trentatré volte al secondo. Quindi quando voi fate il conto velocità della luce per un trentatresimo di secondo, vi rendete conto che non c'è nana bianca che tenga. Le nane bianche hanno dimensioni tipo quelle della Terra. Ci vuole un oggetto molto più piccolo. Questa è una grande intuizione che ebbe tra gli altri Franco Pacini e quindi gli astronomi hanno capito che erano davanti a un nuovo oggetto celeste che era stato immaginato da Landau ma che non era mai stato neanche lontanamente cercato perché non si sapeva che cosa cercare, che è la stella di neutroni. Allora la stella di neutroni è un laboratorio di fisica straordinario perché ha una massa che è una volta e mezza la massa del Sole compressa in un raggio di dieci chilometri. Il Sole ha un raggio di settecentocinquanta mila chilometri. Quindi ha avuto una compressione di quelle mica da ridere, ha una densità spropositata e quindi ha delle caratteristiche fisiche straordinarie perché eredita tutta l'energia, tutto il patrimonio energetico della stella dalla quale si è formata. Quindi eredita sia l'energia rotazionale della stella sia il campo magnetico, solo che tutto viene compresso. Quindi è super veloce perché se noi facciamo questo trattamento qui al Sole che ruota in circa ventisette giorni viene fuori un oggetto che ruota in meno di un secondo. Proprio non abbiamo fatto niente, abbiamo solo applicato, se volete, la conservazione del momento angolare. E la stessa cosa succede al campo magnetico. Il campo magnetico di qualche Gauss della superficie del Sole diventa un milione di milioni di Gauss. Quindi un oggetto straordinario. Ovviamente questo è il modello che noi ci immaginiamo per spiegare le pulsazioni delle stelle di neutroni. Noi le vediamo se questo cono di emissione guarda verso di noi. Se il cono di emissione non intercetta la Terra, noi quella stella lì non la vediamo. Quindi ricordatevi che le stelle di neutroni fanno rima con geometria. Non si può studiare una stella di neutroni senza conoscere la geometria dell'emissione. Ovviamente è un risultato degno di un Nobel. Scopri un nuovo oggetto celeste, voglio dire. Sì, il Nobel lo prende il professore, non lo prende Jocelyn. E poi torniamo su questa cosa perché la storia va raccontata. Allora, perché vi ho fatto questa piccola introduzione alla fisica di una stella di neutroni? Perché io, che non sapevo nulla di tutto ciò, sono entrata in contatto con quello che poi ho scoperto essere una stella di neutroni. Nel 1975, quindi questo dice anche la mia età, quando ho iniziato la mia tesi all'Istituto di Fisica a Milano. E devo dire, sono stata molto fortunata perché l'Istituto di Fisica a Milano era uno dei partner della missione Cosby. Cosby è stata la prima missione lanciata per studiare l'astronomia gamma dall'Agenzia Spaziale Europea. Quindi l'Agenzia Spaziale Europea è stata costituita più o meno nello stesso periodo. Quindi l'astronomia gamma, devo fare un altro inciso, è una delle ultime nate nel campo dell'astronomia perché è un'astronomia che deve essere fatta dallo spazio. I raggi gamma vengono assorbiti dall'atmosfera e di questo noi dobbiamo essere molto grati al guscio di gas che ci protegge perché i raggi gamma, voglio dire, sono sterilizzanti, uccidono le cellule, fanno male. Quindi, meno male che c'è l'atmosfera. Tuttavia, se uno li vuole studiare, deve prendere il suo satellite e il suo strumento, metterlo su un satellite e sperare che tutto funzioni. L'astronomia gamma è iniziata nel 1972 e vi sottolineo questa data perché le gentilissime signore che lavorano al giornale di fisica mi hanno tampinato alla morte perché volevano un articolo sul cinquantenario della nascita di questa astronomia che è anche il cinquantenario della nascita della sorgente della quale parliamo. Allora, altro piccolo spiegazione, che cosa state vedendo? State vedendo una carta del cielo in raggi gamma. Questa è quella che è stata prodotta dal satellite americano della NASA SAS-2 che è stato attivo per nove mesi, tra il 1972 e il 1973. E qua vedete la carta del cielo fatta dal satellite Cosby che invece è stato attivo per sette anni. Quindi vedete la differenza che è dovuta al fatto che Cosby ha visto molti più raggi gamma, molti più fotoni. Tuttavia SAS-2, allora quello che voi vedete qui, scusate anche qui, non tutti hanno fatto il corso di astronomia, è il piano della nostra galassia. Quando d'estate voi siete in un posto abbastanza buio da vedere la galassia che vi passa sopra, la vedete esattamente sopra la vostra testa che attraversa il cielo. Qui gli astronomi per rendersi la vita più facile, quelli che studiano la galassia, invece di usare quelle coordinate lì che attraverserebbero lo schermo, diciamo così, andrebbero in diagonale, la rettificano e usano queste coordinate che si chiamano coordinate galattiche. È un trucco per semplificarsi la vita. Ma comunque quello che voi vedete quindi è che il satellite SAS-2, ripeto dal 1972, dice Ah, io mi aspettavo di vedere solo questa parte di nuvolette di raggi gamma che sono prodotte dall'interazione dei raggi cosmici con il gas nel piano della nostra galassia. Invece, guardate che strano, vedo anche degli agglomerati che non sono così spapparacchiati come le nuvolette galattiche. E in particolare vede tre punti, guardate, uno, due e tre, che vedete anche qui, uno, due e tre. Allora, il punto uno e il punto due, il nostro SAS-2 capisce che sono dei pulsar e guarda caso non sono dei pulsar a caso. Uno è il pulsar del granchio e uno è il pulsar delle vele, quelle che vi ho fatto sentire prima perché erano già studiati, erano già ben noti. La terza sorgente invece, questo oggetto qua, era il mistero. Non c'erano pulsar vicino nella regione di questa sorgente e quindi non si sapeva cosa fosse. Si facevano ipotesi ma non si sapeva cosa fosse. A questo punto voi magari vi chiedete, sì ma io quando ho davanti quel pallocchietto di raggi gamma, come faccio a capire che è un pulsar? Perché i radioastronomi vedono i segnali, gli astronomi gamma devono fare una cosa un pochino più complicata. Avete fatto vedere la dimensione che parte dai dati del satellite agile, satellite italiano, ma avete visto che ci siamo calati dentro una sorgente e questa sorgente è la pulsar del granchio. Quello che qui vediamo è ovviamente una grafica che ci fa vedere il pulsar che gira. I raggi gamma vengono emessi in modo molto sparagnino da questi oggetti, quindi ne emette uno ogni tanto. Per rendersi conto che quello è un pulsar bisogna fare, bisogna utilizzare una tecnica che si chiama ripiegamento in fase. Adesso ve lo faccio rivedere, così capite meglio. E' il piano della galassia, ci concentriamo sulla nebulosa del granchio, entriamo nella nebulosa del granchio e vedete quanto è diversa la dimensione della macchia gamma rispetto alla sorgente vera e propria, perché i raggi gamma purtroppo non sono in grado di vedere bene. Questo è lo Hubble Space Telescope. E poi passiamo alla grafica. Quindi questo è per farvi vedere sia il problema che ha l'astronomia gamma a dare la posizione precisa delle sue sorgenti, sia al fatto che bisogna avere ben noto il periodo con il quale gira l'oggetto, perché bisogna usare quell'informazione per ripiegare i fotoni in fase e ottenere la curva di luce. Allora, a questo punto noi dobbiamo cercare di capire se la sorgente misteriosa è un pulsar oppure no. Quindi bisogna fare osservazioni alla morte per cercare di vedere se c'è una pulsazione. I colleghi che devono fare la osservazione radio chiedono il nome da dare al campo da osservare. Non volevano utilizzare il nome che avevano immaginato i colleghi di SAS 2, che era gamma 195 più 5, che sono le coordinate galattiche di questo oggetto. Volevano un nome, Piripicchio. Questo succede in Olanda, questa domanda viene fatta alla persona che aveva chiesto l'osservazione, che era Nanni Bignami, il quale oltre alla sua capacità astrofisica, aveva anche molta sensibilità proprio alle parole. Gli piaceva scrivere poesie, eccetera. parlava molte lingue e allora comincia, vuole dare un nome e quindi viene fuori, mette insieme il fatto che è una sorgente gamma nella costellazione dei gemelli, quindi geminga, ma il collega olandese che legge il nome legge geminga perché in olandese la G è solo dura e geminga in milanese significa non c'è e in effetti la sorgente radio non c'è e alla fine della missione Cosby, dopo sette anni, questa è la carta del piano galattico, vi faccio notare che è stata colorata a mano, non c'erano ancora i computer in grado di colorare e questa è una mappa di isofote gamma, vedete quel cilindro lì, è il satellite Cosby e vedete la realtà di questo che veniva chiamato il doppio uovo al tegamino perché questa sotto è il pulsar del granchio, questo sopra è la sorgente misteriosa. Allora, ancora una volta, qui il vero problema è che questi dati danno un'informazione molto poco buona, molto poco precisa sulla posizione e non avendo trovato nessuna sorgente radio interessante, quello che ancora una volta Nanni Bignami pensa di fare è di chiedere tempo d'osservazione con il telescopio Einstein, telescopio per astronomia X costruito da Riccardo Giacconi che diciamo intorno al 78-79 rivoluziona l'astronomia X, la rivoluziona perché è la prima volta che si vedono immagini X fatti con uno specchio focalizzante i raggi X. È il grandissimo contributo di Riccardo Giacconi all'astronomia Riccardo Giacconi all'epoca era direttore dell'osservatorio di Harvard e noi facciamo domanda e viene dato tempo d'osservazione. Quindi noi prendiamo la miglior posizione possibile e chiediamo di osservarla in X e quindi qui vedete quello che succede nel corso di più o meno 7-8 anni. Allora, negli anni 70 Cosby produce questa mappa di isofote, le due uova al tegamino. Questo è il pulsar del granchio, questa è Geminga. Allora, si va a puntare il telescopio X nella regione centrale e si scopre una sorgente X. In effetti fuori da questo cerchio ce ne sono almeno altre due di sorgenti, ma questa è la più brillante e quindi visto che non avevamo nessun altro parametro di scelta decidiamo di concentrarci su quella più brillante. È proprio dentro nella regione dove sembrano venire i fotoni di Cosby e quindi chiediamo di fare una seconda osservazione con un altro strumento che c'è a bordo, lo High Resolution Imager. Ci puntiamo su quella sorgente lì per vedere se è una sorgente puntiforme o se è una sorgente un po' elungata. La sorgente è puntiforme. A questo punto cosa diavolo sarà? Si va a vedere sulle carte del cielo, cioè storicamente si usava la carta del Palomar e si va a vedere quella che cosa dice, che cosa c'è in corrispondenza di quell'oggetto lì e non c'è niente. Allora uno dice bisogna fare delle immagini ottiche migliori di quelle di Montepaloma. Si telefona a colleghi francesi che hanno del tempo di osservazione al telescopio Canada-France-Hawaii alle Hawaii e si comincia una campagna di osservazioni ottiche. Noi non sapevamo niente di astronomia ottica e abbiamo dovuto impararla più o meno in 4-4-8. Noi iniziamo nel 1984 a fare osservazioni alle Hawaii, poi chiediamo tempo al telescopio europeo australe in Cile e nel 1988 otteniamo questa immagine che è la migliore disponibile all'epoca dove il cerchioletto è l'incertezza della sorgente X che è piccolissima rispetto all'incertezza della sorgente gamma eppure dentro questo cerchioletto ci sono tre oggetti. Questa G, poi ovviamente noi cercavamo la controparte di Gheminga quindi la prima cosa che si trova è questa sorgente G. A questo punto gli astronomi ottici dicono per capire che cos'è fai lo spettro fai lo spettro e vedi che è una stella come il Sole perché diavolo una stella come il Sole dovrebbe mettere così tanti reggi gamma, scartata. Allora G primo e poi ce n'è un'altra che viene fuori, G secondo. Ah, G primo vedete che non ha proprio l'aria di essere puntiforme, sembra un po' spaparacchiata, forse è una galassietta. E allora a noi sembra che G secondo sia la migliore controparte ottica ovviamente un sacco di gente ci dice che insomma noi abbiamo le traveggole chi ci dice che quella roba lì sia la controparte e noi rispondiamo perché secondo noi questa è una stella di neutroni ed è una stella di neutroni che ci fa marameo e non emette in radio perché non ci guarda, noi vediamo il reggi gamma ma non vediamo il radio e ci dicono perché, perché per esempio il pulsare delle vele si comporta esattamente in questo modo, è brillantissimo il reggi gamma una sorgente così così in X, una sorgente debolissima in ottico perché le stelle di neutroni sono piccole e quindi la loro luminosità ottica dipende dal volume della sfera, questo oggetto qui ha le dimensioni di 10, un raggio di 10 km è piccolissimo. Questa è la situazione alla fine degli anni 80 nel 1990, alla fine del 1290 viene lanciato il nuovo osservatorio gamma ci sono questi due grandi strumenti, uno si chiama COMTEL ed è dedicato all'astronomia gamma di bassa energia, uno si chiama IGRET ed è dedicato all'astronomia gamma di alta energia noi lavoriamo con IGRET, non direttamente, i colleghi americani lavorano con IGRET ma ci spifferano tutto, perché loro vogliono riuscire a capire che cosa è IGREMIGA allora, un pomeriggio, perché quando si lavora con gli americani le telefonate arrivano sempre di pomeriggio telefonano e telefonano amici che lavorano al Goddard e dicono sai che abbiamo visto la pulsazione di GEMINGA con il satellite ROSAT un satellite per astronomia X che è una collaborazione tedesco-americana e quindi questo amico dice hai ragione tu, è proprio un pulsar la tua GEMINGA e pulsa quattro volte al secondo, quindi è un pulsar abbastanza tranquillo e i colleghi di IGRET prendono questa informazione e fanno il ripiegamento in fase e scoprono questa bellissima pulsazione la sorgente è un pulsar, sta pulsando devo dire che i colleghi di IGRET ce lo dicono subito è il 1992 Nanni e io abbiamo avuto una figlia che deve tornare a casa dalla scuola materna io diciamo vedendo questa dico a Nanni ma allora la possiamo trovare anche nei dati Cosby noi avevamo ancora le pizze dei dati Cosby però dovevamo andare a prendere la bambina alla scuola materna mio marito mi dice chiama tua madre la bambina la portiamo dalla nonna e noi passiamo tutta la notte in ufficio ovviamente a ripiegare i dati Cosby e troviamo la pulsazione non solo ma essendo lunghi sette anni noi riusciamo a fare il rallentamento che è un'altra cosa caratteristica dei pulsar che è quella che ti permette di fare il conto sull'energia totale è un momento assolutamente esaltante perché tutto quello che tu hai pensato è vero poi c'è un altro momento perché a questo punto è ancora una volta Nanni che dice le stelle di neutroni hanno un movimento molto rapido si muovono a centocinquanta duecento chilometri al secondo se è così noi lo dobbiamo vedere chiediamo ancora tempo d'osservazione in Cile ce lo danno e c'è un altro momento epocale perché noi vediamo che la sorgente G secondo che nel 1984 era ancora vicina a G primo questo è G G primo G secondo nel 1992 si è chiaramente spostata si muove si muove quindi è la controparte ottica del pulsa perché l'ottico non pulsava quell'oggetto lì è un oggetto debolissimo quindi abbiamo dei momenti di grande diciamo eccitazione perché a questo punto abbiamo messo insieme queste informazioni questa è la sorgente gamma la seconda sorgente più brillante del cielo prima c'è la sorgente delle vele poi c'è Geminga poi c'è il pulsar del granchio questo è lo stesso diciamo panorama ma visto in X allora Geminga è questa roba qua questo qui è il pulsar del granchio quindi in X il pulsar del granchio è una delle sorgenti più brillanti di tutte e questo qui è in ottico vista con lo Hubble Space Telescope vedete com'è ridicolmente debole la nostra sorgente vedete G G primo si capisce che G primo è estesa non è una sorgente puntiforme e il nostro piccolo 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 eh Geminga sul quale noi abbiamo la follia di fare il un programma di parallasse perché a quel punto siamo diventati dei checchi dell'astronomia ottica e ehm le sorgenti abbastanza vicine ehm risentono del moto della terra fondamentalmente ed è eh lo spostamento parallattico che è una cosa fondamentale in astronomia vuol dire che bisogna fare eh almeno tre osservazioni divise da sei eh sei mesi di tempo una dall'altra per sfruttare la posizione favorevole della terra e poi eh sperare di riuscire a misurare questo scostamento lo scostamento l'abbiamo misurato era veramente pochissimo ma eh questo scostamento ci ha permesso di eh capire che la sorgente è molto vicina è a meno di cinquecento anni luce eh da eh da noi quindi è una delle stelle di neutroni più vicine che è la ragione per la quale è così brillante fondamentalmente quindi eh Geminga a questo punto ha tutte le caratteristiche di un pulsar eh si rifiuta di emettere impulsi radio nessuno è perfetto ehm e e quindi eh vuol dire che è il prototipo di una nuova classe di stelle di neutroni mh e eh che cosa vuol dire? vuol dire che eh questo è un grafico immaginifico di come ehm emette una stella di neutroni eh l'emissione radio è sicuramente nei poli del campo magnetico l'emissione gamma avviene molto probabilmente in altre regioni della magnetosfera eh dove le eh particelle accelerate dal dal pulsar che è un acceleratore naturale perdono energia ed emettono raggi gamma quindi eh se non siete ancora stanchi di eh sentire le eh le storie di Geminga posso dirvi che eh il nome Geminga è entrato nell'immaginario popolare perché eh pensate che ancora una volta in anni che eh passa dall'aeroporto di Parigi e vede questo libro Geminga la civilizzazione perdue quindi eh un pessimo libro di fantascienza nel quale eh si racconta che eh c'è qualche sfigata civilizzazione che ha deciso di stare su una stella di neutroni che non è proprio il posto che io raccomanderei per andare a fare delle vacanze. Comunque questo per dire che il nome eh è diventato in qualche modo un ehm così un marchio di fabbrica. Andiamo avanti eh viene viene lanciato fine millenovecentonovantanove viene lanciato eh XMM Newton eh è il eh la milestone dell'Agenzia Spaziale Europea che deve studiare l'astronomia X. Eh noi siamo direttamente coinvolti il nostro istituto è direttamente coinvolto Nanni è stato il PI Principal Investigator dello strumento fondamentale che si chiama EPIC per eh European Photon Imaging Camera e ehm XMM è in orbita da ventidue anni a questo punto e eh ed è ancora eh funziona ancora perfettamente e ehm ed è ancora l'osservatorio X più potente che sia disponibile. Eh la ehm il cuore del ehm del telescopio sono gli specchi e sono specchi ad sono degli specchi troncoconici ricoperti d'oro sui quali raggi X vengono riflessi per incidenza radente. Se non ci credete guardate qui questo è eh uno uno eh degli specchi di prova che eh noi abbiamo in in istituto e che quando i fotografi lo vedono diventano assolutamente matti perché è eh una cosa assolutamente meravigliosa. Eh noi essendo soci eh abbiamo tempo garantito su eh su questo strumento eh ci chiedono che cosa volete guardare e secondo voi noi che cosa rispondiamo? Gaminga. Gaminga non ci tradisce mai e quindi non sappiamo che cosa stiamo cercando eh ma è lo strumento eh più sensibile e quindi noi vogliamo ehm vedere cosa sembra la nostra sorgente e la nostra sorgente ci fa una incredibile sorpresa guardate Gaminga in tutta la sua bellezza vista da Epic e guardate che cosa si tira dietro le vedete queste due meravigliose codine quando il mio dottorando mi porta eh questa immagine io lo cazio violentemente gli dico ma è possibile che non sei più capace di sommare le immagini perché sono eh frame separati che poi devono essere sommati uno con l'altro e lui poverino mi dice ma no io l'ho rifatta due o tre volte sono sicura di non aver fatto errori e si capisce che non ha fatto errori perché le sorgenti puntiformi sono puntiformi non hanno tutte la coda la coda la coda ce l'ha solo Gaminga qui vedete l'immagine un po' con un po' di smoothing ma qui vedete quando si mette la direzione in cui si muove Gaminga noi l'avevamo misurata la direzione quindi Gaminga fa un po' come pollicino si muove e si lascia dietro eh questi sono elettroni oppositroni che eh interagiscono con il il mezzo interstellare eh che ha compresso il campo magnetico in quella zona ed emettono per sincrotrone comunque eh vedete questa cosa non era mai stata vista una cosa del genere per una stella di neutroni è la prima volta adesso se ne conoscono altre ma questa qui è stata la prima volta ehm l'articolo viene mandato a Science io sono il primo autore e viene accettato istantaneamente ma è successa una cosa del genere proprio perché era così sbalorditivo eh allora il problema è quando voi avete eh vedete queste codine e dice cosa diavolo fa le code e la risposta è eh è la stessa fisica del dell'onda di prua è il nostro la nostra stella di neutroni che si muove in un mezzo viscoso quindi questa è la stella di neutroni si muove nel mezzo intestellare e quindi si forma un'onda d'urto questo qui si chiama Bauschock e eh e questo è quello che poi fa eh formare le code dietro fantastico ci sono press release dell'agenzia spaziale europea ma vedete eh la nostra sorgente diventa eh una star da copertina quindi eh ma eh il 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 l'articolo di eh il il fascicolo di science che riporta il risultato ci chiede di dare un'immagine per la copertina e questa è un'immagine artistica ovviamente degli specchi d'oro di XMM quindi eh mettete il il fatto che l'articolo è il primo pubblicato da science dice che la copertina si riferisce a quell'articolo lì eh dovete aspettarvi qualche danno collaterale e il danno collaterale è che io vengo nominata man of the year perché vedete io avevo firmato P.A. Caraveo voglio dire eh tutti noi avevamo fermato con le eh eh iniziali ma eh voglio dire non ci sono solo danni collaterali appunto io ricevo anche il premio eh nazionale presidente della repubblica e e qua eh mi vedete insieme a mio marito Nanni Bignami che brindiamo con il presidente napolitano io posso finirla qui se volete se no la storia continua perché Gevinga è una never ending story me lo dovete dire voi se volete ancora andare avanti ancora dai allora perché arriva un nuovo telescopio gamma eh nel duemila e otto viene lanciato un nuovo telescopio gamma si chiamava eh GLAST ma appena è in orbita e la NASA lo dedica a Enrico Fermi eh Enrico Fermi ha fatto dei grossi lavori eh sui raggi cosmici quindi c'è una ragione per questo quindi con eh questo telescopio noi finiamo eh il eh se volete eh la ehm il panorama di tutti gli strumenti gamma dall'impero romano ai giorni nostri perché eh abbiamo detto SAS due, Cosby, Igret, allora eh Cosby europeo, Igret e SAS due sono nella NASA, poi nel duemila e sette era stato lanciato Agile, avete visto la eh animazione che era stata fatta sui dati di Agile e poi nel duemila e otto viene lanciato Fermi. Sono più o meno eh nella giusta scala. Quindi vedete per esempio Agile è la sedicesima parte di Fermi perché Fermi ha sedici torri di rivelazione come Agile e questa riga qui fa vedere uno spartiacque tecnologico perché queste sono camere a scintille di tipo tradizionale queste sono rivelatori al silicio che funzionano molto meglio sono molto più veloci, molto più potenti, permettono di fare cose eh molto più eh diciamo all'avanguardia. Eh quindi mh abbiamo eh vediamo eh vediamo un attimo come sono i dati di questi strumenti. Riprendo le eh le immagini della galassia e quindi vedete come cambia la galassia in cinquant'anni. La galassia non è cambiata neanche per sbaglio ma cambia la nostra possibilità, la nostra capacità di vedere eh di misurare la galassia. Quindi quello che voi vedete è che Fermi vede tantissimi puntini dove qui se ne vedevano molto pochi, qui non se ne vedevano per niente perché è molto più sensibile e eh e questo essere molto più sensibile lo rende un mh terrificante, un meraviglioso cacciatore di pulsar. Eh il vedete i pulsar gamma sono stati eh si contavano sulle dita di una mano eh fino al lancio di Fermi e vedete come i numeri schizzano e continuano a schizzare perché adesso guardate ehm la cosa no aspetta vi devo far vedere quest'altro. Quelli verdi sono i pulsar eh che pulsano in radio, quelli blu sono quelli che non pulsano in radio, quelli rossi sono pulsar radio ma quelli velocissimi, un po' diversi, ma quello che vi voglio eh vorrei che voi notaste è che eh 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 Fermi comincia a vedere pulsar come gaminga ed è ed è capace di mettere insieme così tanti eventi che è possibile fare il ripiegamento in fase andando a cercare la periodicità e eh e la cosa incredibile è che alla fine si arriva a un eh a un a un risultato pari i pulsar che hanno eh emissione radio e i pulsar senza emissione radio più o meno va a finire che sono lo stesso numero quindi mh con Fermi eh gaminga non è più l'unico esempio di pulsar mh che non emette in radio ma diventa una matriarca perché eh dietro a lei c'è si apre una vasta famiglia eh di amici, parenti, conoscenti, cugini che vengono chiamati gaminga like perché si ehm ehm comportano come gaminga. Science dedica la copertina ai risultati di Fermi. Eh io vengo eh invitata a scrivere eh un ehm a scrivere le ehm un paper di rivista eh sui pulsar gamma e eh facendo un po' matrix eh lo chiamo gamma ray pulsar revolution e eh vedete qui ehm l'abbiamo eh festeggiato con una foto dove io punto gaminga perché eh gaminga per me eh è stata eh una parte fondamentale della mia vita. Eh grazie ai risultati di Fermi nel duemila e tredici io entro a far parte eh del del gruppo degli scienziati più citati vedete questo è una una cosa che viene fatta automaticamente eh allora la faceva Thomson Reuter adesso la fa Clarivate ma eh sono quelli che sono dentro nell'uno per cento sono gli autori dei lavori che sono tra gli uno per cento più citati quindi questa cosa qua ehm mi permette di entrare nel gruppo duemila e tre per la ricerca scientifica che eh raccoglie eh gli italiani che sono all'interno di di questa lista e ehm il presidente Mattarella eh ci nomina tutti i commendatori eh il più seccato di tutti è stato mio marito quando io ho ricevuto questa cosa che ovviamente era molto contento ma ma guardate mi ha detto io devo dormire con un commendatore eh che questo significa che lui non lo era ma questo è un dettaglio trascurabile eh il eh purtroppo eh mio marito è scomparso pochissimo dopo questo exploit eh ma eh io ho cercato di continuare eh il lavoro che avevamo sempre fatto più o meno insieme perché poi lui era diventato presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana era diventato presidente dell'INAF quindi non è che avesse molto tempo da dedicare alle stelle di neutroni ma la sorpresa più bella è venuta eh l'anno scorso quando eh Luisa mi ha mandato un whatsapp dicendo ti faccio i complimenti ma non dirlo a nessuno che io eh onestamente non sapevo che cosa volesse dire anche perché come al solito ero in una teleconf eccetera e poi ho realizzato quindi eh dopo avervi parlato di me eh vorrei riprendere il discorso che fine ha fatto Jocelyn Bell che non ha preso il premio Nobel eh allora eh lei ha si è mh tirata fuori dalla carriera scientifica per un certo numero di anni eh ha deciso di dedicarsi al marito al figlio eccetera eh poi mh il figlio è cresciuto credo che abbia divorziato e e quindi ha eh ricominciato alla grande è diventata perché tutto sommato la gente sapeva che i puls li aveva scoperti lei eh e quindi è diventato eh presidente della mh eh della physical society ehm inglese è diventata ehm Royal Astronomer ma eh del di Edimburgo eh è diventata capo della eh di una free university ha ha avuto eh tante importanti posizioni ma nel duemila e diciotto in occasione del cinquantenario della ehm pubblicazione del dell'articolo di scoperta del dei primi Pulsar ehm a a Jocelyn Bell è stato conferito lo Special Breakthrough Prize che eh un premio di tre milioni di dollari eh finanziato dal magnate ehm americano ma di origine russa Yuri Milner eh Jocelyn ha devoluto l'intera somma per una fondazione eh che aiutasse eh le ragazze e gli studenti diciamo eh che vengono da paesi eh disagiati per eh continuare i loro studi all'università perché lei è convinta che un eh un mondo più inclusivo con più attenzione alla parità di genere sia un mondo migliore sia in ambito scientifico sia in ambito generale per tutti noi grazie allora grazie veramente per questa avvincente divertente presentazione eh non so se ci sono ancora delle curiosità che che Patrizia voglia esaudire nel tra di voi sì vedo una domanda prego però vicino a un microfono perché se no fuori non si sente venga qui curiosità da ignorante intanto complimenti è stato veramente divertente e molto bello io ero curioso sulla struttura delle 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 stelle di neutroni eh faccio più o meno riesco a capire che l'interno è una sorta di di nucleo gigante neutro ma non capisco cosa c'è sulla crosta eh non è l'unico l'altra domanda non è l'unico a non capirlo si pensa che la crosta sia ferro o qualcosa del genere eh eh è ferro ma ma è insomma è un materiale normale diciamo è una materiale normale la stella di neutroni io dico sempre ai miei studenti è l'ultima fermata prima del buco nero eh la stella di neutroni è materia normale eh che noi possiamo vedere possiamo studiare e quindi eh non ha ha ovviamente tutta una serie di effetti di relatività generale perché mh ha così tanta massa concentrata in così poco spazio ma eh è materia assolutamente normale. E l'altra piccola domanda è i getti sono solo fotoni o c'è anche materia dentro? C'è anche particelle? I getti radio sono solo eh fotoni eh i che sono fotoni radio secondo alcuni ehm colleghi che fanno modelli e di mh emissioni di stelle di neutroni in alcuni casi eh nei nei getti diciamo polari ci si possono formare anche raggi gauna. Sicuramente eh le particelle devono mh seguire di più i campi magnetici e quindi possono uscire perché le le code sono particelle accelerate che sono uscite ma è è più difficile che escano dai getti è più facile che escano dalle zone equatoriali. Però un po' di materia le perde insomma. Materia sono particelle c'ha presente quante particelle ci sono? domanda la sinera evaporano? No no sono lì tranquille. Grazie. Io avevo una una curiosità sul eh le le stelle gaming alike possono essere correlate con le emissioni di onde gravitazionali? Ah le emissioni di onde gravitazionali sono sono avvengono quando c'è una ehm coalescenza di eh due stelle di neutroni due buchi neri un buco nero una stella di neutroni eh che orbitano un intorno all'altro. Eh il ehm queste stelle qui eh le nostre gaming like sono eh stelle ehm sono pulsar normalissime non sono pulsar doppie così quindi quelle lì ehm non mi aspetto che eh siano sorgenti di onde gravitazionali diciamo così. Chissà mai un giorno. Chissà mai. Ci sono altre domande? No? Sì? Prego. Un paio di curiosità velocissime. Una eh dal punto di vista biografico eh uomo dell'anno duemila e tre eh la data insomma duemila e tre stiamo parlando di una data vicina. Mi domandavo il progetto cento donne contro gli stereotipi. Nasce da questo incidente di no 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 eh io sono stata reputata è la fondazione Bracco che ha fatto partire questo progetto eh cento donne contro gli stereotipi che ha cominciato con le materie STEM poi l'ha allargato adesso c'è ci sono le economiste ehm sono ehm è uno sforzo ehm che eh sta molto a cuore a Diana Bracco per eh cercare di superare gli stereotipi di genere e eh per dare a al agli studenti maschi e femmine ehm uno uno sprone un incentivo a studiare le materie scientifiche eh e a non sentirsi mh prigionieri eh del dell'idea che ci sono lavori da maschio e che ci sono lavori da femmina. Ecco noi ci ci battiamo io mi mi batto sempre molto quando vado a fare le conferenze nelle scuole per dire eh bisogna che tutti facciano si sentano liberi di fare quello che vogliono quello che eh a loro piace quello che li appassiona maggiormente eh l'importante è che ai ragazzi eh venga dato un messaggio positivo perché io invece nel in molte scuole trovo eh già le le ragazze ehm ma anche alla scuola media che mi dicono ah ma prof eh poi noi siamo femmine e queste cose qua che gli viene dalla famiglia che viene da da tutto questo retaggio culturale e eh e appunto mh eh forse si potrebbe mh se volete proporre alla fondazione Bracco di mettere Laura Bassi come socio emerito come eh socio perché eh bisogna eh avere eh dei modelli bisogna eh è molto importante avere dei modelli di ruolo avere davanti delle persone che ti dicono non è vero eh tu puoi riuscire eh se la eh ragazza ama i motori e vuol fare il camionista deve poterlo fare eh non è che uno gli dice no i camionisti sono solo uomini eh ma quest'idea di che hai appena formulato interessante devo dire che è proprio merito di Raffaella Simili e della sua equip se questo personaggio Laura Bassi più noto all'estero che in Italia finalmente comincia a emergere tant'è che un rompighiacci della eh dell'istituto di ricerca OGS di Trieste è stato ehm finalmente battezzato eh Laura Bassi quindi è un po' una novità grazie a quest'azione intrapresa in occasione delle celebrazioni di Laura Bassi qui a Bologna quindi senz'altro sarà fatto Grazie a tutti